Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar della serie Investire con Francesca Fossatelli. Finalmente torniamo in live oggi mercoledì piuttosto che giovedì, ma abbiamo leggermente anticipato, ma i temi sono tanti, il mercato ci sta dando direi filo da torcere perché effettivamente negli ultimi giorni si sta comportando in modo strano, tanto che riesce a spiazzare anche gli analisti che da un lato dicono io mi aspettavo una forte correzione ma poi vedo che effettivamente prosegue il rally specialmente su alcune azioni, quindi in tantissime ricerche ho notato che gli analisti vanno proprio contro quello che avevano detto finora e dicono per ora ci siamo sbagliati, vediamo che succede, quindi se gli analisti diciamo non si espongono tanto è difficile anche per noi capire dove stanno andando i mercati, ma ovviamente l'unico modo per farlo è tenersi informati e specialmente con i webinar del giovedì che andiamo a vedere tutta la ricerca, sicuramente questo è un buon modo di farlo. Come sempre se ci dovessero essere domande, dubbi, vi ricordo che nella sezione Zoom avete appunto domande e risposte dove potete utilizzare la chat per fare le domande in diretta, come sempre vi ringrazio per tutti coloro che ci seguono in diretta e salutano e fanno buongiorno, buonasera, quindi ciao a tutti. Partiamo proprio da una comunicazione di servizio, l'IT Forum di Rimini, la prossima settimana, il 15 e il 16 giugno, al Palacongressi di Rimini, si tratta dell'evento principale per chi è appassionato di trading e investimenti, per me è un evento storicamente sempre rilevante, è il primo evento in assoluto a cui ho partecipato in ambito finanziario, quindi effettivamente è un evento che ho nel cuore. Vi ricordo che l'evento è sempre completamente gratuito, si tiene appunto in una bellissima città in cui si sta benissimo che è appunto Rimini e abbiamo tre conferenze e una in realtà è una novità perché doveva esserci un'altra conferenza, ma abbiamo una conferenza che sicuramente non vorrete perdere, quindi in primis c'è appunto la conferenza di apertura, la tecnica IT Forum, un nuovo modo di guadagnare con il trading, il 15 giugno a ore 10.30, 11.30 in cui sarò con tantissimi amici, tra cui appunto Francesco Caruso, Maurizio Mazziero e così via, ovviamente Eugenio Sartorelli, Raimondi e Vito Massafrà che appunto ci aiuteranno a capire anche un po' il contesto economico. Sarà una conferenza in cui ogni relatore parla di una diversa set class e di come approcciarsi quest'anno, quindi secondo me anche molto interessante parteciparvi. La conferenza principale che riguarda proprio l'operatività sui certificati di investimento è la conferenza che esce Schling, impiegare la liquidità nel breve sui certificati, limitando il rischio e massimizzando il rendimento. È la conferenza del 15 giugno, ore 15.30, 16.30 in sala Tia per tre. Nella conferenza andremo a vedere una cosa che non vediamo e non vedremo nei webinar, ossia come applicare a livello pratico la tecnica del puntare all'autocall, quindi dell'investire nel breve periodo tenendo il più possibile la liquidità investita senza tuttavia doverla mettere effettivamente troppo a rischio. Quindi è diciamo una tipologia di strategia che si applica per tutti quegli investitori che oggi magari hanno parecchia liquidità, non la vogliono mettere tutta sul mercato, magari la vogliono mettere in un momento migliore, ma nel frattempo vogliono continuare a guadagnare. Magari non vogliono bloccare i fondi in un contodeposito che effettivamente in Italia rende davvero poco, non li vogliono bloccare magari su un'obbligazione che come abbiamo visto comunque si muove e può scendere e magari l'idea può essere proprio quella di puntare i certificati che vanno in autocall. Ovviamente sono strategie che implicano un rischio, quindi l'idea della conferenza è capire quali sono i rischi e dove si può investire minimizzando il rischio e portando appunto le probabilità dalla propria parte. Alla fine della conferenza ci sarà la presentazione di una super mega novità che quindi per chi ovviamente partecipa in live secondo me sarà un bel momento e parleremo di questa super mega novità nella seconda conferenza il sedici giugno dalle nove e trenta alle dieci e trenta quindi alzatevi presto perché questa è una conferenza assolutamente da non perdere in sala Pghia per due con Pierpaolo Scandurra. La conferenza si chiama Investi nel futuro, rivoluzione alla gestione del tuo portafoglio in certificati. Quindi per chi ovviamente volesse seguire questi temi, l'IT Forum sicuramente è un bel momento in cui incontrarci di persona, anche parlare liberamente senza il filtro della telecamera e soprattutto scoprire anche qual è la novità che non vi dirò finché non arriviamo all'IT Forum. Vi ricordo inoltre che nella nuova app Free Finance che appunto per chi non l'avesse scaricata è già disponibile sia per l'Apple Store che sul Google Play Store c'è una nuova sezione, la sezione mercati che vedete appunto nella parte destra della slide dove c'è una selezione di azioni ordinate per paese e per settore che vi può aiutare a tenere monitorato il vostro portafoglio in certificati. Quindi invece di mettere tutte le azioni di tutti i mercati e poi effettivamente creare le watchlist diciamo richiede anche delle volte un po' di tempo, in questo caso si possono monitorare molto più facilmente i settori, le performance dei diversi settori e capire anche chi sono i best e worst performer della giornata e cliccando sulle singole azioni si vedono anche alcuni parametri abbastanza interessanti per investire come il minimo e il massimo di giornata, il minimo e il massimo a un anno quindi a 52 settimane e così via. Quindi può essere una sezione ulteriormente utile per chi magari utilizza già l'app o per chi non la utilizzava, questa magari può essere il motivo per utilizzarla. Facciamo appunto sui mercati, in particolare partiamo diciamo da l'elefante nella stanza che era il tetto sul debito degli Stati Uniti, quindi abbiamo visto nelle scorse settimane che c'era questo stallo sul tetto del debito che poteva portare gli Stati Uniti al default per fortuna è stato trovato l'accordo, quindi la Camera dei Rappresentanti e il Senato hanno approvato la legge sul tetto del debito che sospende il tetto del debito fino al primo gennaio del duemilaventicinque e fondamentalmente elimina lo spettro del default per il resto del mandato di Biden e previene per fortuna un possibile default destabilizzante per gli Stati Uniti. In realtà per raggiungere questo accordo ovviamente le due parti hanno dovuto negoziare e quindi effettivamente ci sono stati dei vincoli di spesa in particolare su alcuni settori che potrebbero avere un impatto sull'economia, anche se secondo Morgan Stanley l'impatto complessivo è traspurabile, circa un punto percentuale di rallentamento della crescita del PIL del prossimo anno, anche se nello scenario di Morgan Stanley si prevede una Fed non troppo rialzista, quindi Morgan Stanley ci dice se la Fed non è troppo rialzista fondamentalmente l'impatto dell'accordo è bassissimo ma se la Fed dovesse essere un pochino aggressiva, più di quanto ci si aspetta attualmente allora in quel caso effettivamente questi vincoli di spesa del governo degli Stati Uniti potrebbero avere un impatto forte sui mercati. Una cosa interessante è che ovviamente dato che tutti si aspettavano una reazione positiva nel caso in cui si fosse avuto l'accordo, la reazione positiva non c'è stata perché proprio nel momento in cui l'accordo è passato, diciamo è stato approvato dalla Camera dei rappresentanti e poi dal Senato, i mercati non è che effettivamente hanno festeggiato, anzi in realtà vedendo tutti i dati che sono usciti poi successivamente hanno iniziato a pensare a quello che è il prossimo problema, cioè l'eventuale aumento dei tassi di interesse della Fed. Qui vediamo che attualmente diciamo si stima nella prossima riunione uno stop anche probabilmente settemporaneo al rialzo dei tassi e c'è una piccola percentuale, un 25,2% di probabilità che effettivamente il rialzo invece sia superiore di 25 punti base. ovviamente altra cosa che scontano i mercati è i segnali di indebolimento dell'economia cinese che iniziamo a vedere su tantissimi diversi dati, anche se come vedremo in alcune delle slide successive potremmo aver effettivamente raggiunto il bottom della Cina. A livello europeo invece i dati più rilevanti probabilmente sono quelli proprio sull'inflazione. Abbiamo visto l'inflazione tedesca a maggio al 6,3%, sotto il 6,8% atteso e sotto il precedente 7,6%. È la misurazione più bassa da febbraio del 2022, quindi effettivamente un'ottima notizia per la Germania che era anche il paese dove abbiamo visto esserci un po' più problemi, lato crescita e soprattutto abbiamo visto un impatto molto forte dell'inflazione sul settore manifatturiero. Mentre per quanto riguarda l'eurozona, l'inflazione è scesa a più delle attese, il dato inflazionistico è del 6,1% su base annuale, sotto le attese Reuters del 6,3% e sotto il precedente 7%, la misurazione core è pari al 5,3% sotto il consensus del 5,5% e sotto il 5,6% di aprile. Sebbene ovviamente questa è una un qualcosa di positivo, ci sta dicendo che effettivamente l'inflazione, e lo vediamo anche dal grafico, sta iniziando a scendere, questo non è effettivamente una discesa sufficiente da far desistere la BCE nel suo rialzo dei tassi, anche perché ricordiamo che la BCE è molto più indietro anche rispetto alla Fed. Quindi effettivamente non ci possiamo aspettare tagli almeno da parte della BCE, sicuramente non ci possiamo aspettare stop almeno nel breve periodo. Una cosa interessante che diciamo è legata proprio ai dati dell'inflazione è una ricerca di Barclays che fondamentalmente inizia già a dire forse potrebbe essere già il momento di iniziare a investire su quella che sarà la disinflazione, quindi su effettivamente quello che Barclays pensi succederà nei prossimi mesi, specialmente sul settore europeo. Infatti ci dice che effettivamente una minore inflazione significa minore crescita e quindi una minaccia in realtà per gli utili. Ci dice anche che la BCE, così come la Fed ovviamente sta drenando la liquidità in eccesso dal sistema che proviene e ci portiamo avanti specialmente dal periodo Covid, la spinta della riapertura cinese effettivamente ormai si sta affievolendo e comunque il rallentamento della crescita inizia a prevalere un po' su tutti i settori e quindi c'è la cosiddetta disinflazione. Dopo una forte corsa, infatti negli ultimi otto mesi, i titoli azionari europei hanno ceduto parte della loro sovra performance a maggio, anche a causa diciamo di un euro più debole e quindi abbiamo visto che effettivamente questo non è stato un mese estremamente positivo per i titoli europei, anzi, quindi abbiamo visto alcuni mercati in particolare performare non troppo bene e quindi questo ovviamente è dovuto a tutti questi fattori. E secondo Barclays potrebbe essere il momento di posizionarsi nel medio e lungo periodo per beneficiare di questa disinflazione. In particolare Barclays ha creato proprio un indice ad hoc dove ha, diciamo, non ci interessa di per sé l'indice Barclays ma ci interessa effettivamente come ha selezionato i titoli per quel tipo di indice. In particolare Barclays che cosa ha fatto? Ha iniziato a sovrappesare i titoli del settore consumer che secondo Barclays in particolare la parte europea, quindi la parte retail, beneficerà di più del contesto disinflazionistico anche perché tutti quelli che nei precedenti mesi avevano beneficiato dell'inflazione come il settore energia, come il settore bancario ad esempio, in questo momento secondo Barclays non sono i favoriti, infatti abbiamo visto anche dei flussi degli investitori istituzionali che continuano a vendere il settore energetico, il settore bancario e a posizionarsi invece su altri settori tra cui anche il settore retail e quindi Barclays effettivamente si sta posizionando e qui vediamo proprio un grafico diciamo di della correlazione all'inflazione e delle azioni europee divise appunto per settori, quindi secondo me questo era un grafico abbastanza interessante anche per capire chi sovraperformerà e chi sottoperformerà nel momento in cui arriviamo in un contesto disinflazionistico. Nel basket di Barclays, particolarmente rilevanti anche per chi magari investe in certificati, io ho appunto pescato quelle più interessanti, ci sono Zalando, Danone, Roche, SAP e Adyen, quindi effettivamente magari per chi oggi ce li ha in portafoglio, alcune di queste stanno performando male negli ultimi mesi, magari questa è una notizia positiva che effettivamente magari per chi investitore istituzionale investirà appunto su questo indice di Barclays, l'indice inizierà a comprare queste azioni e quindi potrebbero salire. Ecco, altra cosa rilevante per quanto riguarda l'Europa, sono ovviamente i verbali della BCE, ancora una volta, l'abbiamo anticipato all'inizio, non ci possiamo aspettare un taglio, ma sicuramente neanche una pausa da parte di Christine Lagarde, da parte della BCE, l'inflazione in Europa secondo la BCE rimane ancora troppo alta, quindi è necessaria un'ulteriore politica restrittiva da parte dell'Europa. Una cosa interessante è che effettivamente come aveva già fatto la Fed, anche la BCE continua a dirci che l'obiettivo è sempre quello del 2%, quindi non si rialzano gli obiettivi, non si punta diciamo a un qualcosa nel mezzo, ma si punta al 2%, secondo la Lagarde non ci sono evidenze che effettivamente l'inflazione core abbia raggiunto il massimo. Quindi questo secondo me è l'elemento più rilevante perché quello che noi vediamo a livello di grafici potrebbe non essere così, quindi magari effettivamente ci potrebbe essere un rialzo dell'inflazione nei prossimi mesi. Un'altra cosa secondo me interessante sempre a livello europeo è il calo dei prestiti in Europa, in particolare la crescita delle concessioni di credito è passata dal 5,2 al 4,6 e sulle famiglie dal 2,9 al 2,5, quindi effettivamente stiamo iniziando a notare che le politiche monetarie si stanno effettivamente trasmettendo, così come anche dichiarato dalla BCE e dalla Lagarde, ma questo ovviamente avrà un impatto sull'economia reale e ovviamente infine poi anche sui mercati, generalmente i mercati anticipano e nel caso dell'articolo avevamo evidenziato come le banche ombra, ossia gli intermediari finanziari non bancari potrebbero avere un rischio un pochino più alto rispetto alle banche tradizionali proprio perché potrebbero essere impattati negativamente se i clienti ritirassero i depositi o si dovessero trovare in difficoltà, più rispetto diciamo alle banche tradizionali che ovviamente hanno anche dei requisiti diversi, quindi questa è una cosa da tenere a mente ovviamente se si investe in questi istituti, in particolare sulla parte obbligazionaria perché alcuni di questi potrebbero magari fare default nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Un'altra cosa secondo me molto 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 interessante e può avere un impatto magari per chi ha ancora Credit Suisse in portafoglio è il fatto che UBS prevede di completare l'acquisizione di Credit Suisse il 12 giugno e le azioni del Credit Suisse saranno dell'istate della borsa svizzera dal SIX il 13 giugno e della borsa di New York il 12 giugno. Gli azionisti di Credit Suisse riceveranno un'azione UBS per ogni 22,8 azioni in circolazione quindi fondamentalmente sulla base di questo probabilmente si avrà anche l'eventuale rimborso dei certificati o nel caso comunque la sostituzione del sottostante Credit Suisse con UBS questo dipenderà dalla scelta dei diversi emittenti. Inoltre la cosa interessante secondo me in questo caso era la cosiddetta garanzia statale che era stata posta nell'accordo proprio perché quando UBS ha acquistato Credit Suisse l'ha acquistata praticamente nel giro di poche ore nel weekend quindi non ha fatto la dovuta due diligence e quindi che cosa aveva concordato con lo Stato svizzero con il governo svizzero questa garanzia statale di 9 miliardi di franchi svizzere di franchi svizzeri e ovviamente questa garanzia si renderà necessaria man mano che la due diligence finirà. Una cosa interessante è che ovviamente UBS si farà carico dei primi 5 miliardi di franchi svizzeri di perdita e il resto, i successivi 9 miliardi saranno appunto a carico dello Stato. Questo perché è interessante perché UBS si aspetta delle svalutazioni per circa 13 miliardi di dollari sulle attività del Credit Suisse e stima che le responsabilità legali costeranno fino a 4 miliardi di dollari in 12 mesi. Ovviamente è uscita da vincitrice, questa l'abbiamo detto fin dall'inizio, UBS ha guadagnato una banca e soprattutto è diventata una potenza nel settore bancario europeo e in generale in Svizzera, diciamo una delle società se non licenzia tutti i dipendenti di Credit Suisse con i maggiori dipendenti in Svizzera, quindi effettivamente diventa una potenza in Svizzera diciamo di importanza fondamentale. Per quanto riguarda la trimestrale di UBS che magari è rilevante appunto per chi ha in portafoglio UBS o per chi ha Credit Suisse perché magari verrà sostituita appunto con UBS dai diversi emittenti sui certificati e comunque per chi ha le azioni verrà sostituita, si deve attendere la fine di agosto probabilmente per la pubblicazione dei risultati, quindi anche se inizialmente erano previsti per il 25 luglio probabilmente saranno posticipati proprio perché deve essere fatta ovviamente tutta la parte legale relativa all'acquisizione che probabilmente non è ancora finita. Una delle notizie più interessanti probabilmente degli ultimi giorni sono stati i dati sui non farm payroll e quindi sul mercato del lavoro americano. Perché dico è stata una delle cose più interessanti? Perché sono stati dei dati un po' particolari, quindi sono stati letti diversamente da diversi analisti e non sono stati dei dati di per sé estremamente positivi né estremamente negativi, quindi è stato un po' un misto direi. Quindi da un lato abbiamo avuto in un farm payroll a 339.000 unità, più alti rispetto alle stime e ovviamente anche rispetto al dato di aprile. Il tasso di soccupazione al 3,7% era atteso il 3,5% e il precedente era il 3,4%. Il salario orario medio è salito del 4 e 3 su base annuale, al di sotto del consensus e al di sotto del precedente 4,4%. Qui vediamo due view diciamo di diversi analisti, quindi in primis la view di Bank of America in cui vediamo che effettivamente Bank of America ci dice innanzitutto legge i dati in un modo e come vediamo dopo diciamo vediamo una view di un'analista non dico opposta però comunque diversa rispetto a quella di Bank of America quindi Bank of America ci dice innanzitutto che le buste pagano agricole hanno superato tutte le aspettative sono aumentate di 339.000 unità, è il quattordicesimo mese in cui le buste paga superano le aspettative e le revisioni a rialzo hanno ovviamente hanno reso il rapporto ancora più, il report ancora più impressionante in termini di crescita di posti di lavoro. Mentre da un lato quindi abbiamo una crescita dell'occupazione forte, dall'altro abbiamo un dato diciamo un quadro più complesso del mercato del lavoro perché la retribuzione oraria media per tutti i dipendenti è aumentata allo 0,3% mese su mese, 4,3% anno su anno e il mese di aprile è stato rivisto al ribasso di un decimo e in genere negli ultimi tre mesi la retribuzione oraria era cresciuta un tasso annualizzato del 4% più o meno in linea con l'indice del costo del lavoro. Sebbene questa non è una misura della crescita dei salari, questo suggerisce secondo il Bank of America un rallentamento delle pressioni inflazionistiche sui salari rispetto all'anno fa. Perché? Perché fondamentalmente ci dice che se fondamentalmente le aziende riducono le ore lavorate aumentano le assunzioni ma questo indica una sorta di accumulo di mano d'opera quindi effettivamente le imprese prima di ridurre i lavoratori iniziano a ridurre le ore lavorate quindi questo potrebbe essere il primo sentore che ci dice effettivamente il mercato del lavoro non è più così forte. L'indagine sulle famiglie perché in genere nel report abbiamo la parte diciamo relativa alle famiglie e la parte complessiva fondamentalmente relativa alle società in questo caso l'occupazione sulla parte famiglia è scesa di 310.000 unità e la disoccupazione è aumentata di 440.000 quindi il tasso di disoccupazione è balzato di 3 decimi al 3,7% arrotondato. La discrepanza è dovuta al fatto che effettivamente c'è un calo nei lavoratori autonomi che sono conteggiati nelle intagini sulle famiglie ma non su quella sul cosiddetto establishment quindi quella che noi vediamo generalmente riportata anche dagli articoli di giornale. Per la Fed ovviamente il report sull'occupazione di maggio è particolarmente difficile da analizzare perché come abbiamo visto se gli analisti hanno difficoltà a capire com'è questo report e a dare un'opinione probabilmente anche la Fed sarà combattuta. Infatti il report non è abbastanza debole da giustificare una sospensione dei tassi e nonostante l'aumento delle buste paga non agricole il calo delle ore settimanali ha fatto sì che le buste paga aggregate siano aumentate solo dello 0,3% rispetto al mese precedente. Powell tuttavia quello che guarda è il tasso di soccupazione pertanto l'aumento di 0,3% potrebbe rafforzare l'ipotesi di saltare un rialzo a giugno ma questo non impedisce effettivamente che non ci siano rialzi nel corso dell'anno quindi il report fondamentalmente ci dice ok per ora ma non è detto che si stoppi il rialzo dei tassi per tradurlo in termini semplici. Ovviamente che cosa dobbiamo guardare qui? Il report sull'inflazione del 13 giugno quindi il 13 giugno probabilmente abbiamo già un'idea anche un pochino più precisa di quello che potrebbe essere il percorso della Fed. Per quanto riguarda invece Goldman Sachs quindi l'avvio di Goldman Sachs la crescita sequenziale di salari è la misura più importante per determinare cosa farà la Fed quindi se la Fed vuole continuare o meno con questo rialzo dei tassi specialmente diciamo su quest'anno perché poi qui è dove si gioca la partita. Secondo Goldman Sachs ovviamente l'analisi il report che viene pubblicato è un po' limitato perché effettivamente si vanno a vedere le misure di crescita salariale come tassi annuali quindi Goldman Sachs utilizza un metodo per tradurre questi dati e vedere effettivamente se c'è una crescita sequenziale dei salari lo fa con un modello che chiama smooter di Kalman diciamo che è chiamato smooter di Kalman che fondamentalmente che cosa fa? Va a stimare la crescita sequenziale basandosi sui tassi annuali quindi sembra complicatissimo ma in realtà è fondamentalmente cercare di stimare il dato mese per mese. I risultati di quest'analisi che quindi non andiamo a vedere esattamente come è calcolato il tutto ci fidiamo che sia stato fatto bene il risultato dell'analisi indica che la crescita dei salari negli Stati Uniti sta rallentando dall'inizio del 2022 e c'è un ulteriore rallentamento a ritmo annualizzato del 4,5% previsto nel secondo trimestre del 2023. Di contro però le pressioni salariali sequenziali nell'area dell'euro sono rimaste ferme fino al primo trimestre al 5,4% annualizzato e quindi c'è la necessità di ulteriori aumenti dei tassi per frenare la crescita dei salari. Quindi mentre negli Stati Uniti abbiamo un rallentamento diciamo sequenziale e un raffreddamento se vogliamo del mercato del lavoro in Europa questo è diverso. Quindi Goldman Sachs ci dice negli Stati Uniti probabilmente abbiamo quasi finito con il rialzo dei tassi e comunque nel breve non verranno aumentati il lato europeo invece è giusto che continuino ad essere aumentati. Quindi effettivamente diciamo ci tornano un po' i conti di quello che sta succedendo e di quelle che sono le previsioni. Un'altra news secondo me molto rilevante è stata una news che abbiamo pubblicato anche su Free Finance Pro relativa appunto all'OPEC Plus che ha diciamo fatto alcune cose secondo me interessanti. In primis ovviamente ha esteso gli attuali tagli della produzione fino a dicembre del 2024. Quindi i nove paesi OPEC hanno deciso volontariamente di estendere appunto questi tagli alla produzione cercando appunto di mantenere alto il prezzo del petrolio che come abbiamo visto negli ultimi mesi è una delle asset class che sta tenendo peggio e sta andando peggio. Il ministro dell'energia dell'Arabia Saudita ha anche comunicato che la produzione del paese passerà da 10 a 9 milioni di barili al giorno quindi fondamentalmente c'è un taglio unilaterale di un milione di barili al giorno a giugno estendibile anche a luglio e questo potenzialmente secondo Goldman Sachs potrebbe aumentare il valore del Brent da 1 a 6 dollari al barile a seconda della durata del taglio. E altra cosa che ovviamente viene utilizzata sempre per proteggere il prezzo del petrolio è la redistribuzione delle linee di base della produzione quindi fondamentalmente si vanno a redistribuire la produzione utilizzando la capacità in Italia Uniti inutilizzata dei paesi che appunto in questo momento non stanno producendo a pieno ritmo come in questo caso gli Emirati Area Uniti. Quindi da un lato queste decisioni hanno compensato i rischi di ribasso e dall'altro determinano che effettivamente l'OPEC Plus ha un elevato potere di terminazione dei prezzi. Un'altra ricerca secondo me molto interessante è questa pubblicata anche su Free Finance Pro è praticamente una diciamo una view sul fatto che l'oro che oggi è molto costoso che abbiamo visto scendere nelle ultime settimane quindi effettivamente abbiamo visto che tanti analisti pensavano che l'oro fosse troppo costoso dall'altro lato c'è un po' una view secondo me rilevante che ci dice che effettivamente le banche centrali stanno manifestando un enorme interesse sull'oro proprio per diversificare le loro partecipazioni dagli asset in dollari e quindi potrebbero essere proprio le banche centrali a guidare nel medio lungo periodo il rialzo effettivamente dell'oro quindi diciamo effettivamente dato che molti paesi stanno mettendo in discussione le loro riserve in dollari l'oro potrebbe essere uno di quegli asset che nel medio lungo periodo comunque potrebbe performare anche abbastanza bene quindi se nel breve effettivamente non è detto che performi bene perché come abbiamo visto è in questa fase di correzione rispetto ai massimi tuttavia dall'altro lato potrebbe essere interessante nel medio lungo periodo un'altra cosa che abbiamo visto e vi ho inviato su Pfinals Pro perché secondo me era una voce un po' fuori dal coro è la view direi negativa se non negativissima di Morgan Stanley sia sul mercato americano che sul mercato europeo una view che nelle ultime negli ultimi giorni diciamo gli analisti che hanno pubblicato questa view ovviamente stanno un po' mitigando le loro posizioni perché questo accade ovviamente che nel momento in cui viene pubblicata una ricerca non è che poi la ricerca rimanga scritta sulla pietra poi gli analisti la rivedono però secondo me è interessante perché l'idea di fondo potrebbe essere valida ossia Morgan Stanley che cosa prevede prevede che ci sia un improvviso calo degli utili societari che va che andrà a frenare i rally delle azioni statunitensi e quindi dice piuttosto che investire sugli USA vado ad investire da qualche altra parte quindi Giappone Taiwan Corea del Sud ma soprattutto vado a sovrappesare alcune set class più stabili come i treasury a lunga scadenza vado a sovrappesare il dollaro e questa diciamo il long dollaro è probabilmente uno dei trade più condivisi in questo momento dalla maggior parte delle ricerche vado a sovrappesare ovviamente i titoli difensivi quindi tutto quello che non è ciclico e fin qui diciamo penso che tutti gli analisti sono d'accordo anche se come abbiamo visto nelle ultime settimane c'è qualche ricerca che va a favore dei titoli ciclici in particolare Morgan Stanley che cosa vede vede una discesa degli utili per azione dell'S&P 500 del 16% quindi effettivamente una view molto molto ribassista anche un po' in contrasto con le previsioni della maggior parte delle banche tra cui Goldman Sachs e in generale un po' di tutta Wall Street per quanto riguarda l'Europa la view secondo me è ancora più negativa perché prevede una discesa del 10% quest'estate a causa del rallentamento della crescita economica della riduzione della liquidità del mercato ma poi prevede nel medio e lungo periodo un rimbalzo verso diciamo la fine dell'anno quindi nei primi mesi avremo un azionariato europeo che tenderà ad essere un pochino più debole ma poi anche dovuto questo alla riduzione in generale della liquidità del mercato sia con appunto il tetto del debito che effettivamente un po' va a pesare sia dalla politica restrittiva di Fed e BCE che continuano a drenare la liquidità del mercato e una cosa interessante che ovviamente ci dice Morgan Stelle è che effettivamente tendono ad essere più rialzisti sull'Europa rispetto agli Stati Uniti proprio perché con diciamo la attualmente diciamo anche le azioni europee tendono ad avere dei multipli un pochino più interessanti dei prezzi ancora più interessanti e un'economia che non è diciamo in recessione o comunque sull'orlo di una potente recessione come pensiamo Morgan Stelle che è quella degli Stati Uniti anche se come abbiamo visto la recessione almeno per alcuni analisti è un qualcosa da mettere in discussione anche qui da vedere che cosa succederà nelle prossime settimane con i prossimi dati una notizia secondo me molto molto rilevante perché va a cambiare un po' l'assetto in generale delle criptovalute ma anche di tutte le società che operano con criptovalute è fondamentalmente l'accusa di SEC della SEC quindi la Security and Exchange Commission quindi l'autorità che è posta appunto nel controllare tutte le società che operano società finanziarie che operano negli Stati Uniti contro Binance e contro Coinbase quindi in primis la SEC accusa Binance e in particolare la Binance US quindi l'affiliata americana di Binance di aver fatto una serie di cose quindi il wash trading quindi gonfiare in modo fraudolento i volumi di scambio sulla piattaforma tramite una società di trading svizzera di aver consentito ad alcune società di operare su Binance illegalmente e di aver mescolato gli asset dei clienti tra entità statunitensi e non statunitensi di avere delle molteplici negoziazioni che non sono state registrate e avere schemi di investimento diciamo illegali quindi che eludevano la normativa antiriciclaggio di aver fraudato gli investitori sulla capacità di osservare e prevenire il trading manipolativo su Binance US ma soprattutto anche di non essere indipendente e quindi di essere sotto il controllo effettivamente di di Zao e quindi effettivamente di Binance e di non essere un'entità separata l'inosservanza delle regole del KYC ma la cosa più importante quindi queste sono tutte accuse di cui Binance ovviamente dovrà provare che non sono state fatte queste pratiche che appunto sono illegali dall'altro lato poi c'è una parte di accuse che invece sono diverse in cui effettivamente gli si dice che hanno che Binance ha svolto l'attività senza l'adeguata registrazione cioè gli ha detto tu stai vendendo token in particolare hai evidenziato alcuni token specifici tramite Binance che devono essere considerati delle securities quindi dei titoli finanziari e quindi essere sottoposti a tutta la regolamentazione delle securities questo che cosa fa per la SEC questo allarga effettivamente lo spettro della SEC cioè se fosse così la SEC effettivamente non controlla più solo i titoli diciamo veri e propri ma inizia a controllare anche dei token e questo porterebbe la sua sfera di comando sui 115 miliardi di dollari di criptovalute e inoltre la SEC ha detto pure tu hai operato come borsa come broker dealer agenzia di compensazione senza adeguata registrazione quindi sta mettendo fondamentalmente in discussione il modello di business cioè sta dicendo chi opera con i token chi fa queste cose diciamo con le criptovalute è come se fosse una borsa quindi deve essere regolata come se fosse una borsa quindi sta fondamentalmente cercando di regolare ex post le criptovalute cioè effettivamente è un qualcosa di molto potente perché è difficile pensare a una cosa del genere diciamo da parte della SEC quindi qui arriviamo poi anche al punto però prima vediamo anche di che cosa sta accusata Coinbase perché ieri fondamentalmente è arrivata l'accusa anche a Coinbase che il mercato dava praticamente per scontata in cui la SEC gli dice tu stai operando illegalmente come broker red exchange senza esserti registrata l'autorità di regolamentazione ora che che impatto può avere questo su Coinbase sul settore e in generale appunto sulle cripto da un lato ovviamente la SEC sta dando sta dicendo fondamentalmente ai diversi player attenzione che se voi operate con le criptovalute e non registrare tutto come securities io probabilmente vi diciamo vi porto in tribunale quindi in primis sta facendo un po' un'opera di se vogliamo di spaventare eventuali nuovi player che vogliono entrare nel mercato dall'altro lato ha attaccato le due più grandi quindi Binance e Coinbase e soprattutto nonostante in particolare Coinbase cioè quindi togliamo un attimo Binance dall'equazione nonostante Coinbase negli ultimi mesi avesse chiesto alla SEC dacci delle regole chiare e precise su che cosa considera i securities e che cosa non considera i securities quindi effettivamente che cosa aveva fatto Coinbase aveva fatto una petizione per chiedere alla SEC più chiarezza normativa la petizione non era stata accolta e quindi gli ha fatto proprio causa quindi questa cosa che era successa ad aprile che dovremmo essere vista probabilmente come anche una cosa positiva è stata probabilmente vista come una cosa negativa tanto da portare appunto queste accuse ora se effettivamente questo si dimostrasse vero bisogna dimostrarlo poi in tribunale quindi queste potrebbero essere cause di mesi se non anni difficile effettivamente che venga tutto accolto anche perché sembra un po' una regolamentazione non è exposto quindi io qui è la mia view personalissima view avendo letto anche diciamo tutta la la parte legale quindi non essendo esperta legale questo lo dico e lo dico proprio prima di dare la view effettivamente quello che sembrerebbe è che la SEC cerca di regolamentare un settore exposto quindi non dà le regole prima e poi dice adesso queste sono securities secondo me soprattutto non ha risposto tante domande fatte prima quindi a me sembrerebbe strano che fosse condannata per questo Coinbase quindi non la vedo in realtà come una una cosa negativa poi tra l'altro finché non si ha diciamo un processo effettivamente non si arriva alla fine del processo Coinbase continua ad operare come come sempre fatto quindi realmente da un lato non so quale sarà l'impatto reputazionale effettivo di da parte dei clienti che magari diranno ok se la SEC va contro Binance o va contro Coinbase a quel punto io ritiro i miei soldi perché effettivamente chi opera diciamo con le criptovalute è diciamo anche una persona che probabilmente non è detto che ritiri proprio i soldi anche perché effettivamente i soldi sono sono sempre sulla piattaforma è un po' difficile pensare a un ritiro magari molto grande di queste somme però ovviamente questo non è detto dall'altro lato e quindi l'impatto reputazionale è una cosa che va considerata io personalmente non penso che sia molto forte dall'altro lato è da capire effettivamente sussiste cioè questa accusa effettivamente ha un senso quindi può vincere la SEC in tutto questo un po' difficile pensare che possa vincere la SEC anche perché sembra più un'azione volta a spaventare magari dei piccoli player che effettivamente non rispettano la regolamentazione e un'azione un po' volta a screditare il mondo delle cripto che è una cosa che la SEC appunto ha chiamato penso circa sulle 70 volte Coinbase a parlare a spiegare effettivamente quello che fa il suo business solo nell'ultimo anno quindi effettivamente è un po' una situazione particolare quindi difficilmente anche in America vedrei passare un giudizio molto a sfavore di Coinbase e a favore della SEC proprio perché in questo contesto sembrerebbe appunto che l'azienda cerchi di autoregolamentarsi poi in particolare Coinbase è già diciamo una società autorizzata a negoziare securities quindi in quel caso se effettivamente la SEC dice ok ho sbagliato non vi avevo dato le regole giuste domani queste sono considerate securities Coinbase può negoziarle proprio perché è autorizzata a farlo quindi vedo più un problema all'auto Binance piuttosto che Coinbase anzi in questo caso io vedrei un qualcosa di positivo per Coinbase che è una di quelle poche di quei pochi mercati che è appunto l'autorizzazione a negoziare securities come abbiamo visto appunto negli ultimi giorni la performance è stata negativa ma da inizio anno comunque Coinbase ha segnato il suo più 53% quindi non non ci possiamo lamentare lo stesso vale per il bitcoin quindi questa leggera diciamo discesa comunque non imparte le performance all'inizio anno cosa interessante su Coinbase martedì si è registrato un incremento anche abbastanza forte diciamo dei flussi degli acquisti da parte di ARC quindi Katie Woods effettivamente ha visto questa come una buy opportunity ovviamente non è detto che sia corretta però sembra anche un qualcosa interessante per chi magari voleva puntare a Coinbase questo è un momento sicuramente di crisi e di ribassi della società altra notizia che abbiamo visto secondo me molto interessante è quella del lancio del VR di Apple non tanto a livello tecnologico sicuramente tutti abbiamo visto i video quindi sarà una cosa anche interessante per chi non l'avesse fatto magari andate a vedere perché effettivamente sembra un qualcosa di molto avanzato molto futuristico la cosa interessante invece a livello finanziario che è quello che ci importa a noi è che effettivamente il prezzo e probabilmente alcune caratteristiche non sono state lette benissimo dal mercato infatti dopo il lancio Apple effettivamente è scesa dopo essere salita pre lancio perché perché probabilmente diciamo non sono piaciute alcune cose come la batteria esterna ma soprattutto il prezzo che è 3499 dollari quindi lo rende effettivamente un prodotto di lusso se non lussissimo per la tipologia di clienti standard di Apple la cosa interessante è che dentro diciamo questo dispositivo saranno possibili sarà possibile scaricare alcune app nell'app store dedicato tra cui contenuti di Disney Netflix e Zoom e un'altra cosa rilevante invece lato finanziario è che effettivamente con il lancio dei nuovi MacBook si sta completando il passaggio di Apple da Intel ai propri processori interni quindi questo è un ulteriore vantaggio perché era una di quegli elementi che avevamo individuato inizio anno come vantaggi anche nel medio e lungo periodo per l'azione Apple per ridurre i costi e eventualmente anche i colli di bottiglia nella produzione Apple prevede di vendere dell'Apple Vision Pro quindi del nuovo headset di realtà virtuale e aumentata quindi realtà mista circa 900.000 unità nel primo anno e rimane comunque ottimista e ci dice che fondamentalmente l'Apple Vision Pro sarà probabilmente il primo di una serie di prodotti che saranno sempre più sofisticati ma soprattutto sempre più accessibili al pubblico come vediamo nell'immagine di destra si posiziona sulla fascia alta se non altissima del mercato quindi effettivamente anche rispetto a Meta con il Quest Pro per esempio l'ultimo modello si acquista circa su 550 dollari lo stesso il VR della Playstation quindi effettivamente è un prodotto un po' di nicchia vedremo se venderà e se nel futuro questa sarà una linea di business di Apple che effettivamente porterà delle revenues importanti andiamo a vedere alcune ricerche interessanti degli ultimi giorni che ci possono far capire un po' dove stiamo andando quindi dopo aver visto tutta la parte news andiamo a vedere invece solo la ricerca in particolare una cosa secondo me interessante emergeva dall'analisi dei flussi di Deutsche Bank dove effettivamente quello che si vede è che i flussi delle opzioni call costruite sulle azioni mega cap growth e tech sono cresciuti a dei livelli praticamente che si vedevano solo nel boom della pandemia quando il settore tech fondamentalmente esploso e nella scorsa settimana i flussi sulle azioni tech hanno registrato un record storico lo vediamo appunto da questo grafico secondo i dati di Deutsche Bank il che ci dice che effettivamente il rally del settore tech non è finito e non sta finendo infatti la maggior parte degli afflussi anche della settimana scorsa si sono concentrati sui fondi relativi al settore tech seguiti da oro e mercati emergenti quindi il rally del settore tech che molti pensano stia finendo o possa finire nel breve non sembrerebbe essere finito almeno dai flussi di Deutsche Bank e lo stesso lo vediamo anche dai flussi di Bank of America perché la domanda che io mi sono fatta negli ultimi giorni è il rally delle big tech continuerà per sempre o arriveremo a un punto in cui finirà quindi quando sarà questo punto sarà tra qualche giorno tra qualche settimana tra qualche mese o tra qualche anno questa è la domanda fondamentale per capire se continuare a sovrappesare i tech oppure se iniziare a liberare un po' di liquidità dall'analisi di Bank of America qui vediamo un'analisi mensile dove vediamo vincitori e perdenti di maggio i vincitori ovviamente sono Nvidia più 30 ma anche i magnifici sette del settore tech chiamati così appunto da Bank of America che sono Apple Microsoft Google Amazon Nvidia Meta e Tesla e Tesla i magnifici sette come vediamo hanno e qui vediamo la percentuale dei magnifici sette a livello di market cap sull'S&P 500 come vediamo appunto a partire da una percentuale che era sotto il 10% adesso siamo praticamente ai massimi e se andiamo a vedere il contributo di questi magnifici sette a rendimento con l'S&P 500 in rialzo del 10% quest'anno quindi inizio anno 8,8% di questo rialzo è dovuto al rialzo dei magnifici sette del settore tech 1,2 punti percentuali invece dagli altri 493 titoli quindi il rialzo di un indice di 500 titoli è determinato fondamentalmente da sette azioni questo ci fa capire quanto è importante la selezione azionaria quest'anno quindi ritorniamo sempre al solito tema il cherry picking che quest'anno effettivamente paga l'asset under management anche che gira da parte di investitori più capitalizzati sui magnifici sette è salito del 44% year to date c'è stato un piccolo take profit a maggio del circa 2% ma i magnifici sette rappresentano ancora i magnifici sette tech rappresentano ancora il 31% degli asset and management azionari dei portafogli degli investitori più capitalizzati mentre contro il 28% dell'S&P 500 quindi effettivamente gli investitori più capitalizzati tendono a detenere e continuano a detenere questa tipologia di azioni anche se come abbiamo visto c'è stato un leggero take profit a maggio per il settore dell'intelligenza artificiale un'altra delle domande che io mi sono fatta è possibile che ci siano in futuro e questa ricerca ha un po' risposto alla mia domanda ci siano in futuro delle aziende che magari oggi non stiamo analizzando più piccoline che potrebbero sovraperformare le grandi aziende su cui oggi tutti stanno puntando perché oggi le big tech che diciamo sono legate al mondo dell'intelligenza artificiale sono quelle che stanno trainando il mercato ci può essere una piccola azienda che sovraperformerà tutti e che effettivamente è in grado di sviluppare un qualcosa che gli altri non sono in grado di sviluppare la risposta secondo Goldman è no e anche secondo altre ricerche quindi anche la risposta che mi sono data io è probabilmente no perché perché ci sono delle barriere all'ingresso enormi come proprietà intellettuale capitale necessario anche per sviluppare continuare diciamo a generare l'AI e relazioni industriali consolidate perché effettivamente l'AI per essere sviluppata ha bisogno di più player che si mettono d'accordo per nel progetto fondamentalmente quindi senza queste relazioni industriali effettivamente è anche più difficile questo questo è almeno quello che ho letto nelle diverse ricerche l'investimento che le aziende devono fare per avere successo all'intelligenza artificiale è enorme e ci sono effettivamente solo poche aziende che possono permettersi questo investimento e quindi da dobbiamo pensare un po' come nel cloud dove ci sono dei piccoli pochi attori dominanti come Google Microsoft e Amazon perché hanno effettivamente il capitale ed è chiesto un elevato uso di capitale per lo sviluppo quindi non è sbagliato oggi dire punto su le big tech e mi dimentico fondamentalmente dei piccoli player e così come non è sbagliato magari puntare su degli inch o degli etf che hanno solo queste big tech perché effettivamente queste sono quelle che poi trainano l'intelligenza artificiale e che beneficiano dell'intelligenza artificiale e che probabilmente acquisiranno quei player più piccoli che da soli appunto non ce la possono fare proprio perché c'è questa fortissima barriera all'ingresso una cosa molto interessante è che se avete pensato di investire nelle stock dell'intelligenza artificiale non siete stati gli unici questo è il boom delle ricerche dei termini buy AI stocks e AI stocks quindi compro azione dell'intelligenza artificiale o azione dell'intelligenza artificiale su Google come vediamo il trend effettivamente in forte rialzo quindi è difficile anche pensare che ci possa essere una correzione su queste azioni almeno nel breve proprio perché come avevamo detto nella scorsa puntata il rally di queste azioni potrebbe essere guidato nella seconda fase proprio dagli investitori retailer che poi sono quelli che fondamentalmente cercano questa cosa su Google anche a livello di flussi e qui vediamo appunto il prime book di Goldman Sachs per la quarta settimana consecutiva abbiamo acquisti sul settore infotech che è il più acquistato a livello globale e sono stati flussi più consistenti negli ultimi cinque mesi e si collocano al novantaduesimo percentile sugli ultimi cinque anni quindi effettivamente continuano ad esserci gli afflussi sul settore tech una ricerca in particolare qui è un grafico più che una ricerca non ho riportato tantissimi dettagli ma effettivamente era interessante Goldman Sachs pensa che in questo momento le ADR cinesi abbiano toccato il bottom ce l'ha detto ve lo dico se non erro era il 2 di giugno quindi ce l'ha detto praticamente al vero bottom e questo perché perché effettivamente il primo e il 2 giugno sono stati i giorni con più forte movimento da gennaio di quest'anno e lì Goldman Sachs ha detto probabilmente qui siamo proprio sul bottom e per ora sembra vero quindi effettivamente potrebbero potrebbero iniziare a ripartire quindi per chi oggi ce l'ha in portafoglio perché magari negli ultimi giorni stava valutando è il momento di prenderle e prendere la perdita attenzione perché magari questo è il momento in cui ripartono altra cosa interessante una survey di investitori Goldman Sachs che fondamentalmente ci dice innanzitutto che e ci ribadisce che gli investitori non vogliono rischio e continuano a non volere aumentare il proprio livello di rischio in portafoglio ma ci dice anche che il secondo la maggior parte degli investitori l'indice S&P 500 è quello che performerà meglio a giugno e in effetti diciamo questo potrebbe magari essere vero quindi nonostante diciamo finora abbiamo visto un forte sell delle azioni statunitensi potrebbe iniziare a tornare magari l'interesse anche grazie ovviamente all'intelligenza artificiale e a tutto il settore tech una cosa invece contraria a quello che abbiamo visto finora che sembrava più un qualcosa che ci facesse pensare a un forte bull market sono tre elementi che Goldman Sachs individua come elementi in grado di smorzare i rally degli Stati Uniti in particolare in primis i consumatori quindi ci dice che i dati macro ovviamente rimangono positivi tuttavia e questo lo si nota da tantissime trimestrali in realtà quindi per chi segue un po' il mercato americano in particolare la parte retail ci sono tantissime trimestrali qui appunto Goldman Sachs parlava di dollar general in cui si vede che ci sono dei problemi tra virgolette lato consumatori cioè i consumatori effettivamente non sono messi più così bene come l'anno scorso c'è un indebolimento fondamentalmente della domanda soprattutto nella fascia più bassa dei consumatori per esempio sulla trimestrale di dollar general si è visto che i clienti si affidano maggiormente alle banche alimentari alle carte di credito e fanno più acquisti vicino al giorno di paga quindi quello che è diciamo i risparmi messi da parte che finora magari sono stati utilizzati proprio per contrastare l'inflazione magari in questo momento stanno finendo o stanno andando verso la fine quindi effettivamente questo è un elemento che va contro il rally del mercato il commercio al real estate che come sappiamo già in una fase di crisi ma soprattutto è una crisi lenta perché il real estate commerciale diciamo gli edifici commerciali ci mettono ad andare in crisi perché i contratti di locazione sono lunghi il debito che li finanzia può essere ovviamente lungo e quindi questo può creare diciamo la prossima scossa ribassista al mercato e inoltre la Fed quindi Goldman Sachs ci dice tutti ci aspettiamo una Fed più tranquilla nei prossimi mesi ma non è detto quindi ci dice c'è la pausa è probabilmente giusto che ci sia la pausa nella riunione di giugno ma non è detto che nei prossimi mesi e nei prossimi anni si continui con questa linea soft e quindi magari continuano i rialzi quindi questa è una cosa da considerare e se la Fed dovesse continuare a rialzare i tassi Goldman Sachs crede che ci sarà un ribasso delle azioni concentrato sugli Stati Uniti ma allo stesso tempo un rafforzamento del dollaro e un ribasso dell'oro il dollaro quindi diciamo come abbiamo visto anche in diverse ricerche ma vi dico proprio perché ne ho letto tantissimo è probabilmente uno di quegli asset su cui puntare quindi magari per chi oggi aveva come me chiuso una parte diciamo di esposizione in dollari e vuole ripristinarla questo probabilmente è un buon momento anche per esempio per comprare delle obbligazioni in dollari dato che i tassi effettivamente sono alti molto più alti rispetto magari le stesse obbligazioni delle stesse società in euro e il dollaro atteso in rialzo sarebbe appunto un doppio guadagno un'altra cosa molto molto interessante secondo me era questa ricerca di Goldman che ci dice che per negli ultimi 15 anni i titoli azionari tecnologici e growth sono stati alimentati da tassi bassi e il calo dei rendimenti a lungo termine ha spinto in rialzo le mega cap tuttavia la forza del settore tech è proseguita fino a maggio indisturbata anche se il mercato ha rivalutato eventuali rialzi futuri della Fed e anche la correlazione tra tassi e azioni tecnologiche fondamentalmente quest'anno si è un po' interrotta quindi secondo Goldman questo è dovuto al fatto che le azioni del settore tecnologico stanno segnalando due cose in primis una cosa che ovviamente avevamo notato già l'anno scorso in un mondo in cui la crescita è bassa in cui non c'è crescita o siamo in una recessione gli azionisti effettivamente vogliono comprare delle azioni in crescita quindi il mercato paga per un multiplo più alto per la crescita secolare inoltre concentrarsi sull'inflazione passata e a pronti significherebbe definire la politica o comunque investire guardando nello specchietto retrovisore cioè guardando al passato quindi i dati a pronti in particolare suggeriscono che l'inflazione statunitense è già rientrata nell'intervallo di riferimento della Fed e qui appunto vediamo appunto un grafico della cosiddetta truflation che ci dimostra che effettivamente stiamo andando verso questo target del 2% quindi Goldman Sachs ci dice questi secondo me sono due punti estremamente importanti cioè questa probabilmente è la cosa che da investitori ci dobbiamo ricordare nei prossimi mesi quindi in un mondo in cui non c'è la crescita ricercare la crescita e soprattutto mai concentrarsi sui dati passati ma sempre guardare i dati forward dati futuri soprattutto lato inflazione perché poi questo determina la politica della Fed che determina un po' l'andamento dei mercati quindi tendenzialmente sono due cose che ci possiamo stampare e tenere a mente per almeno i prossimi mesi se non anni la cosa che diciamo emerge dalla stessa ricerca è fondamentalmente a considerare alcune statistiche quindi il Nasdaq che è al più trentatré per cento year to date il migliore dal migliore inizio d'anno dal milenovecentonovantuno e il Nasdaq ha superato anche il Nasdaq equal weight del quattro virgola sei per cento a maggio ed è la seconda maggiore sovra performance mensile dell'ultimo decennio l'indice dei semiconduttori ha registrato un più trentotto per cento su base anno e un più quindici a maggio sovra performando l'S&P 500 del quindici per cento ed è il più grande mese di sovra performance relativa di oltre vent'anni quindi qui vediamo proprio la forza dell'AI cosa super interessante anche a livello statistico secondo me che dopo la trimestrale NVIDIA ha scambiato cinquantotto miliardi di dollari di valore nazionale che significa superare il valore nazionale totale scambiato dei due ETF più scambiati al mondo inoltre i sei più grandi titoli tecnologici statunitensi Apple Microsoft Google Amazon Nvidia e Meta hanno raggiunto 3.000 miliardi di dollari di valore di mercato che è una cifra che supera l'intero valore del mercato del settore industriale statunitense supera l'intero settore dei beni di consumo supera i 2.000 componenti dell'indice Russell supera il capitale di mercato dei settori dei materials del settore immobiliare dei servizi pubblici degli Stati Uniti tutto messo insieme ed è appena inferiore del valore di mercato dell'Eurostoxx 50 quindi effettivamente ci dimostra che questi sei grandi player sono in grado di muovere il mercato e probabilmente lo saranno sempre di più nei prossimi anni a livello di singoli titoli ovviamente è abbastanza interessante notare le performance quelle un pochino più alte in particolare sul settore dei semiconduttori da notare Nvidia AMD e Marvel con delle forti sovra performance rispetto al passato e un'altra cosa interessante da notare è che la sovra performance delle big cap non è solo un fenomeno statunitense ma è un fenomeno anche europeo anche se si verifica in misura minore in particolare se si va a vedere le cosiddette granolas che sono le mega cap con margini elevati e bilanci forti del mercato europeo queste rappresentano meno del 25% della capitalizzazione di mercato ma hanno contribuito per oltre il 35% a rendimento year to date quindi effettivamente sia negli Stati Uniti che in Europa le big cap iniziano ad essere quelle che muovono i mercati e che quindi muovono anche gli indici ora la domanda che si fa Goldman è ora che abbiamo visto tutto questo quindi abbiamo visto che bisogna puntare alla crescita che le big tech reggono il mercato che effettivamente non dobbiamo guardare al passato dobbiamo guardare al futuro in particolare per quanto riguarda l'inflazione ora che cosa facciamo come investiamo quindi Goldman Sachs non ha una view ultra positiva ma neanche così negativa quindi ci dice che ovviamente la risoluzione del tetto del debito è un problema agli inizi per il mercato perché per ricostruire saldi di cassa degli Stati Uniti fondamentalmente c'è una minaccia alla riduzione della liquidità in generale tuttavia abbiamo una stagionalità in più abbiamo una stagionalità che non è dalla nostra parte in particolare sull'S&P 500 qui appunto vediamo che giugno non è un mese in cui tenere l'S&P 500 a livello stagionale l'abbiamo visto anche in un articolo dedicato nonostante questo però il VIX è fondamentalmente ai minimi diciamo sta praticamente segnando un nuovo minimo di chiusura post-Covid e quello che ci dice Goldman Sachs cioè il detto della maggior parte dei trader è che è sempre pericoloso shortare un mercato tranquillo quindi quando un mercato non dà segni di diciamo voler cambiare anche natura non è il momento probabilmente di shortarlo e Goldman Sachs pur essendo cauta riguardo soprattutto alla liquidità dei mercati pensa che i titoli azionari si sono fatti un po' prendere la mano dall'intelligenza artificiale e si aspetta un'inversione del Russell rispetto al Nasdaq quindi al momento diciamo Russell su Nasdaq praticamente ai minimi si aspetta che ci sia un leggero rialzo e si aspetta che l'Europa inverta parte della sottoperformance di maggio rispetto agli Stati Uniti quindi effettivamente non è proprio il momento di puntare sugli Stati Uniti però si possono diciamo fare dei trade magari proprio per puntare in particolare sulle azioni del Russell o eventualmente anche su sull'Europa comunque in ogni caso non è un momento short e questa secondo me è la cosa più rilevante perché alcuni analisti avevano diciamo stavano guardando proprio la parte di shortare iniziare a shortare il mercato quindi alcune banche per esempio hanno iniziato diciamo a dire shortare il mercato e poi ovviamente sono tornate negli ultimi giorni sui loro passi altra cosa secondo me è molto interessante perché avevamo visto ciclici contro difensivi quindi un'altra domanda che io mi facevo è perché tutti continuano ad investire sui titoli difensivi se effettivamente come abbiamo visto tutti cercano crescita e magari poi i titoli ciclici potrebbero andare meglio in una fase di mercato rialzista in realtà come vediamo anche dai flussi degli hedge fund non è proprio il momento dei ciclici che continuano ad essere venduti per l'ottavo mese consecutivo forti vendite allo scoperto in particolare sul settore finanziario energetico che sono compensati da acquisti nei settori industriali dei materiali e immobiliari piccoli acquisti il settore finanziario statunitense è stato venduto per il quinto mese consecutivo in particolare in sette delle ultime otto settimane e ha rappresentato tre dei cinque settori più venduti a maggio e il rapporto long short è praticamente ai minimi quinquennali per quanto riguarda i flussi degli hedge fund e gli hedge fund continuano a acquistare titoli difensivi in particolare healthcare e consumer staples che supera anche le vendite nette del settore delle utilities quindi effettivamente gli hedge fund continuano a dirci non è il momento dei ciclici con i loro flussi una invece analisi molto interessante quindi oggi non vediamo altre azioni ma ne vediamo solo una perché secondo me era estremamente interessante da considerare anche per chi magari vuole investire sull'intelligenza artificiale probabilmente google è un'ottima azione su cui puntare perché dico questo perché google ha praticamente rilasciato un nuovo strumento per fare pubblicità basato sull'intelligenza artificiale che ha presentato durante il google marketing live fondamentalmente l'intelligenza artificiale viene utilizzata sia per semplificare il percorso al cliente su più canali quindi c'è una conversazione con google ads che è alimentata proprio da un livello linguistico perfezionato sui dati dell'annuncio e questo semplifica il processo di acquisto di annunci e di ricerca di come effettivamente strutturare l'annuncio assiste tutti gli sponsor che vogliono fare annunci nel lancio delle campagne può generare parole chiavi titoli descrizioni immagini e tutti gli altri elementi basati sul sito web dell'azienda quindi effettivamente elimina alcuni intermediari elimina anche tutta la parte personale tra virgolette che che aveva google quindi del personale che effettivamente parlava con l'azienda che voleva fare pubblicità è tutto gestito tecnologicamente dall'AI in più l'AI può creare la creatività quindi può creare l'immagine il video il contenuto che poi verrà sponsorizzato e promosso da google quindi questo permette di creare anche più versioni del contenuto che permette di aumentare le impression e i click che ovviamente vengono remunerati quindi questo è uno degli elementi che può creare un incremento delle revenues importante secondo Morgan Stanley Morgan Stanley in particolare si aspetta un aumento delle revenues del 14% e ci dice se anche raddoppiassero i costi di gestione delle nuove funzioni a livello di utili vedremo un più 5% quindi effettivamente è abbastanza interessante inoltre la performance stessa perché effettivamente quello che può fare l'intelligenza artificiale è anche monitorare come stanno performando diciamo le le diverse campagne e capire quali sono le campagne più funzionanti per quella specifica azienda quindi questa secondo me è un'ulteriore prova del fatto che gli inserzionisti fondamentalmente potrebbero iniziare a spendere sempre di più perché le inserzioni saranno sempre più performanti secondo Morgan Stanley ovviamente questi strumenti pubblicitari nuovi basati sull'intelligenza artificiale rappresentano dei miglioramenti significativi che miglioreranno ovviamente la resa creativa ovviamente permetteranno una maggiore conversione porteranno a una crescita pluriannale sostenuta degli annunci e secondo Morgan Stanley quindi Apple scusate Google è diventata un overweight con target a 140 dollari che significa un più 10% circa dai prezzi attuali la media è 130,89 dollari di target price degli analisti e il 92% degli analisti la considera considera Google overweight quindi secondo me è un'azione abbastanza interessante andiamo a vedere le ultime operazioni del portafoglio in particolare parto proprio dall'ultima perché c'è stata solo un'operazione dall'ultimo webinar che è questa praticamente ho acquistato il primo certificato su indici da quando ho pubblicato il portafoglio obiettivo residenza e cavalcare la volatilità non avevo mai acquistato indici perché in realtà personalmente non sono una fan dei certificati su indici perché hanno un rendimento generalmente molto basso e soprattutto diciamo non non mi soddisfano come connubio rischio rendimento quindi spesso trovo magari delle obbligazioni con un rendimento simile e magari leggermente più basso ma che non hanno appunto il rischio mercato che invece è presente sui certificati su indici invece in questo caso secondo me il connubio rischio rendimento era molto interessante quindi ho acquistato è un certificato di Marex con barriera premio in capitale al 60% su Nasdaq 100 S&P 500 Fuzzi Mib e Eurostox Bank che paga un 2,75 trimestre quindi 11% annualizzato ai valori attuali considerando che è tutto sopra la pari va in auto call il 31 agosto rimborsa 1027,5 euro quindi rendimento superiore all'11% perché oramai diciamo sono è passata una settimana circa dagli strike la cosa interessante è che si acquista ancora mille quindi questo secondo me è un certificato interessante non solo per chi magari appunto vuole un certificato super tranquillo su indici ma anche soprattutto per chi oggi ha della liquidità che magari non vuole investire su qualcosa che potrebbe scendere un pochino più velocemente come ad esempio magari investire su delle obbligazioni con scadenza un pochino più lunga potrebbe creare qualche problema questo è un certificato che tendenzialmente va in auto call ovviamente non è detto al 100% che va in auto call ma man mano che si avvicina e passa il tempo questo è un certificato che tende ad apprezzarsi perché a questi livelli va in auto call il 31 agosto quindi secondo me molto interessante considerando anche il prezzo d'acquisto a 1000 euro secondo me diciamo è uno dei pochi certificati interessanti su Indici per me è l'unico dato che è l'unico che ho comprato a livello invece di analisi ho iniziato a fare alcuni slide che secondo me possono essere utili per chi ovviamente segue il portafoglio che proprio per analizzare alcune posizioni che ho in portafoglio che sono particolarmente diciamo potrebbero essere preoccupanti oppure no dipende ovviamente dalla visione sottostante ma che hanno un buffer barriera ridotto in particolare ho tre posizioni sul portafoglio obiettivo resilienza perché sul portafoglio cavalcare la volatilità la gestione del buffer a barriera è un po' diversa ma sul portafoglio obiettivo resilienza diciamo sto più attenta sul buffer barriera per un semplice fatto perché quando il rendimento effettivamente è basso violare la barriera va a pesare sul prezzo del certificato quindi in questo caso bisogna starci un pochino più attenti anche perché sono posizioni un pochino più importanti quindi è per questo che dedico il focus a queste tre posizioni e non ad altre e in particolare ne ho parlato anche sul gruppo telegram obiettivo resilienza le due posizioni su capri effettivamente sono abbastanza vicine alla barriera quindi la prima è quella più più vicina al 6% l'altra al 15% sulla prima sto ancora valutando se ridurre le posizioni su capri e switchare su un altro sottostante quindi completamente diverso e tenere solo il 3387 in portafoglio oppure aumentare la barriera su capri con uno switch che cosa sto aspettando cioè perché non mi sono ancora mossa sto aspettando di capire dove va capri perché dico questo perché per fare uno switch idealmente bisognerebbe iniziare a fare lo switch quando si raggiunge un punto di minimo e quindi quando inizia a ripartire capri sembrerebbe che l'abbiamo raggiunto però volevo aspettare qualche giorno per capire se effettivamente è un punto di bottom o meno perché perché quello è il momento giusto in cui fare lo switch altrimenti se appunto dovessi decidere di non fare lo switch su capri ma sostituire la posizione in portafoglio con un altro worst off in quel caso l'ideale è uscire in una buona giornata per capri e in una brutta giornata dell'altro sottostante che ho selezionato perché diciamo le due posizioni secondo me perché diciamo al momento ha senso tenere il 3387 perché la scadenza non è così lontana comunque il buffer a barriera è buono non è enorme ma comunque non è non è il 6% per esempio del 171 e secondo me effettivamente capri è veramente minimi quindi considerando diciamo tutti questi parametri sul 3387 sono più propensa a tenerlo in portafoglio il 171 invece sto ancora in valutazione altro certificato invece questa è una vecchia colonna portante del portafoglio l'ultima rimasta di quando appunto ho abbassato notevolmente il rischio del portafoglio è il T30 su Esteloder C2Selt Berkshire Hathaway e Lockheed Martin anche qui abbiamo un buffer a barriera del 6% qui sto valutando uno switch non sono ancora certa qui la posizione scade a gennaio del 2024 non sono ancora certa perché come su Capri penso che anche Esteloder sia un bottom sono diciamo anche abbastanza correlate come azioni quindi tendono ad essere negative nello stesso momento perché dipendono fondamentalmente tutte e due dalla Cina quindi sto valutando se effettivamente c'è uno switch che varrebbe la pena fare altrimenti posso valutare anche qui di sostituire con un altro sottostante però anche qui sono in una fase valutativa un po' come Capri vediamo invece le posizioni vicine alla scadenza all'autocall perché nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ci saranno scadenze e autocall quindi è importante diciamo prepararsi prima oggi quindi questa sera ci sarà autocall del 688 il certificato quello su American Airlines Single Stock che rimborserà 100,99 ho già preso un premio su questo l'ho acquistato 100 era proprio un'allocazione tattica per puntare l'autocall il 3 maggio quindi è un bellissimo rendimento perché sono due premi da 0,99 in cascina in un mese c'è invece la scadenza quella una scadenza negativa dell'R20 su PayPal che scade il 12 giugno in questo caso sotto barriera rimborsa circa tra i 34 e i 35 euro sono in valutazione di un potenziale switch cioè sono in valutazione di uno switch su PayPal più costoso o meno costoso realmente questa è l'idea continuo però a puntare su PayPal sto valutando anche eventualmente di aumentare un pochino l'esposizione magari su Coinbase considerando i recenti ribassi però anche qui non ho ancora deciso su cosa effettivamente switchare potrebbe andare in autocall il 312 che è la posizione più sovrappesata in portafoglio ho fatto tre ingressi 10 marzo 27 marzo 11 aprile il secondo il miglior ingresso in assoluto a 96,7 euro potrebbe essere richiamato come no quindi dal prezzo che aveva prima di andare in bidolli sembrava più o meno scontato il richiamo ma vediamo ovviamente nei prossimi giorni il 12 giugno il 142 invece l'intesa Unicredit con barriera 40% questo sicuramente va in autocall il 22 giugno era un'operazione in allocazione tattica aperta il 16 marzo a 99,63 rimborserà 100,85 se non erro ha pagato 4 premi ma forse ne ha pagati 3 quindi non mi ricordo ma comunque ha pagato un po' di premi altro certificato che andrà in autocall il 14 luglio è il KQ5 questo comprato in allocazione tattica ma in realtà fondamentalmente per portarlo l'autocall so rappesando il settore travel comprato a 100,2 ve l'ho segnato anche quando era andato a 100 qualche giorno fa l'ho aperto appunto il 17 maggio rimborserà 105 euro in totale deve pagare 2 premi invece un certificato su cui non sappiamo quale sarà l'esito io spero molto che sarà positivo perché qui me la rischierò è l'LM1 perché scade il 21 luglio al momento a Carnival a meno 44 e 38% quindi Carnival mi deve fare una performance dell'8% per risalire la barriera entro il 21 luglio nel mezzo ci sono le trimestrali di Carnival quindi su cui io personalmente l'ho più positiva il premio sulla lineare è di 13 euro sono pronta diciamo a rinunciare ai 13 euro perché secondo me Carnival ce la potrebbe fare quindi tendenzialmente io continuo a tenerlo in portafoglio per chi ovviamente non ha la stessa view questo può essere venduto a 13 euro di di premio sulla lineare secondo me il premio sulla lineare non è sufficiente a giustificare la vendita oggi almeno per me però vedremo che cosa farà Carnival il T71 invece andrà in autocall il 24 luglio questa è una posizione che io avevo in affiancamento aperta il 10 17 febbraio 2022 aperta proprio in affiancamento su Palantir una bella posizione su Palantir e Netflix che paga se non erro forse è un 5-5 quindi forse ho sbagliato rimborso un 5-5 al a trimestre secondo me molto diciamo forse no forse un 5% al 20% annualizzato secondo me molto interessante come posizione perché comunque con il flusso cedolare ha mantenuto alta diciamo la posizione su Palantir che era scesa che ora invece è in oltre che che ha recuperato è anche in profit altro certificato invece su cui non sono convinta come su Carnival è il 117 su Tesla e Nio che scadrà il 7 agosto deve fare Nio una performance per risalire la barriera del 28% perché non ha senso assolutamente venderlo oggi perché il premio sulla lineare è di 5 euro quindi è un premio sulla lineare talmente basso che oggi non ha senso venderlo anche perché ci sono i premi fissi che si vanno a prendere è un prodotto che ha pagato 30 euro di premi quindi effettivamente diciamo un minimo di batter ce l'ha vediamo come va Nio quindi su questo valuto se portarlo a scadenza oppure no al momento non ha senso toccarlo proprio perché il premio sulla lineare è bassissimo scade il 21 agosto l'FW1 che è sulle lineare americane ha un buffer da barriera del 38% scade in rimborsa 102,58 euro vecchissima posizione aperta prima del lancio del portafoglio quindi prima che il portafoglio diventasse pubblico e l'ho comprato anche a 94,80 euro il 29 novembre del 2021 altro certificato che invece andrà in autocolle il 5 settembre è il 949 che rimborserà 101,875 che ho acquistato a marzo del 2022 è il certificato quello sul paint al momento tra l'altro è in bidolli molto sotto la pari ma in realtà è in diciamo zona autocoll il 614 scade a ottobre del di quest'anno rimborserà in totale 108,35 euro e anche questo ho acquistato il 2 novembre del 2022 e l'RN8 scade il 3 novembre buffer a barriera del 27% rimborserà 103,95 questo era il certificato quello su meta che ho ottenuto in portafoglio due posizioni ho pensato di rivenderlo ma considerando anche il buffer a barriera così alto e che sta andando praticamente in scadenza lo porto a scadenza abbiamo tre posizioni invece che hanno un possibile recupero di un premio in memoria in particolare il primo è un possibile recupero perché appunto manca una leggera performance potrebbe pagare 6 premi in memoria l'8 giugno in totale sono 6,8 euro è una piccolissima posizione in portafoglio però effettivamente Ubisoft sta facendo un bel rally negli ultimi giorni e ha recuperato velocemente sta recuperando diciamo la barriera lo switch su Palantir che ovviamente è andato non direi alla grande pagherà 13 premi in memoria il 12 giugno per un totale 19,5 euro il 6N3 è risalito pagherà quindi 3 premi il 27 giugno 2023 per virgola 9 euro quindi fondamentalmente abbiamo anche qualche prodotto che sta in fortissimo recupero e inizia a riprendere tutte le cedole in più qui vediamo appunto uno screenshot di come sta andando il portafoglio in realtà l'obiettivo resilienza continua a performare anche grazie agli autocall e all'investimento della liquidità il cavalcare e la volatilità ridottono sensibilmente la performance negativa sia ovviamente grazie alla risalita di Palantir ma anche grazie alla risalita di Carnival non hanno impattato tantissimo la discesa di NIO e di Beyond in realtà sia da un lato grazie ai premi sia dal fatto che effettivamente le diverse posizioni avevano già generato premi sufficienti da non rendere così drammatica la perdita con le ultime discese quindi effettivamente cavalcare la volatilità si sta leggermente piano riprendendo e il portafoglio è leggermente negativo ma basta qualche operazione direi ben assestata per farlo riprendere e se andiamo ad analizzare tutte le operazioni aperte in particolare nel 2023 dato che siamo a metà anno se andiamo a vedere quelle di cavalcare la volatilità in totale ha aperto 11 operazioni da inizio anno una sola operazione andata in autofall con profit del 34% annualizzato 10 operazioni sono ancora aperte 6 sono in gain una in flat e 3 sono in loss le 3 operazioni in perdita in realtà sono tutte relative agli switch di operazioni di anni precedenti in media le operazioni aperte sono in profit del 3,2% e le 3 operazioni in perdita sono infatti relative proprio agli switch quindi purtroppo quegli switch non sono stati fortunati quindi abbiamo 3 switch andati male uno è andato bene che era quello su Palantir per quanto riguarda invece le operazioni dell'obiettivo resilienza qui come vediamo io sono stata molto più attiva e ho aperto molte più posizioni e ovviamente ho investito molto più capitale da inizio anno ho aperto 29 operazioni 5 operazioni sono andate in autofall quindi 29 posizioni ovviamente io qui ho considerato anche gli ingressi multipli quindi se entro tre volte su NISIN conto tre operazioni quindi 5 operazioni sono andate in autofall il profit medio è del 25% annualizzato 24 operazioni sono ancora aperte di queste 16 sono in gain 5 sono flat e 3 sono in loss le 3 operazioni in perdita sono tutte relative a capri holdings e in media le operazioni aperte sono in profit dello 0,8% quindi più o meno queste sono le statistiche del 2023 guardando invece le operazioni chiuse del portafoglio obiettivo resilienza in media hanno realizzato un profit del 19% annualizzato se ci dovessero essere ulteriori domande io come sempre rimango a disposizione sia sul gruppo facebook che all'interno dell'email info chiaccia la free finance punto biz vi ricordo ovviamente l'IT Forum del 2023 15 e 16 giugno a Rimini al Palacongressi dove svederemo una grandissima novità sia nella nella conferenza Cash is King e soprattutto vedremo proprio la la novità nella conferenza investi nel futuro rivoluzione alla gestione del tuo portafoglio in certificati il 16 giugno dalle 9 e 30 alle 10 e 30 in sala di Tor 2 come sempre vi ringrazio a tutti e vi auguro una buona giornata grazie a presto grazie a tutti